Giulio Venturi, siamo qui a Follonica, vieni dall'esordio come titolare con la maglia della nazionale in Kosovo, una vittoria che ci serviva, una vittoria che è arrivata puntuale. Intanto raccontami un po' le tue impressioni dopo questo esordio con la maglia azzurra. Sicuramente è una grande emozione, ogni sportivo deve ambire, appunto, a giocare per la maglia azzurra. La partita, abbiamo visto un po' la partita del Kosovo con la Romania, comunque sapevamo di essere superiori, nonostante le assenze comunque pesanti siamo riusciti a fare la partita, siamo stati sopra praticamente dall'inizio alla fine. È andata bene, adesso è importante vincere qui domenica e poi a giugno saranno due battaglie contro la Romania. Domenica appunto che partita vi aspettate? Domenica è una partita che comunque ci vedrà favoriti perché siamo superiori e solo dobbiamo rimanere concentrati per tutti i 60 minuti, giocare come sappiamo e se faremo così non ci saranno troppi problemi. Assieme a te anche Moretti, Stabellini, Paresini, diversi nuovi innesti in questa nazionale affiancati ai più esperti come Maione, Demis, Ratovcic e quant'altro. Come vi state lavorando insieme già dall'inizio della stagione? Come vi trovate in questo gruppo? Sì, penso che sia veramente un bel gruppo che ha fatto il mister. Sì, appunto ci sono 4-5 elementi più esperti che comunque ci danno una mano. In più ci sono dei ragazzi molto giovani come Moretti, Stabellini, che sicuramente in futuro giocheranno loro per la nazionale. Comunque sì, siamo un bel gruppo e speriamo di toglierci delle soddisfazioni perché ce lo meritiamo. Tornando velocemente a domenica, un invito al pubblico di Follonica e al pubblico della Pallamano di seguirvi. Aspettiamo qui a Follonica alle ore 18 e per chi non riuscisse a venire, su Rai Sport. Grazie.